Sono stato assunto in piaggio nel finire del 1987 e sono arrivato a seguito di un corso post diploma che ho fatto a Genova dove sostanzialmente veniva insegnato l'uso dello strumento CAD che era in quel periodo agli albori. Arrivo in piaggio dopo aver frequentato un corso post diploma a Genova dove veniva sostanzialmente, si impratichiva sull'uso del CAD che in quel periodo era agli albori e a fine 1987 sostanzialmente facciamo tre mesi di stage presso la direzione tecnica velivoli che sfocia poi nell'assunzione che è avvenuta con un contratto di formazione a inizio del 1988. All'epoca era la mia prima attività, il mio primo lavoro a 21 anni ed ero sostanzialmente all'oscuro di quello che era il mondo del lavoro, della fabbrica in realtà. però mi sono trovato catapultato in una realtà sicuramente stimolante alle prese con un progetto che era già in essere che è il prodotto di punta di Piaggio Aero all'epoca industria aeromeccanica Rinaldo Piaggio che è il P180, questo velivolo innovativo e se vogliamo anche visionario. Questo aeroplano era stato concepito per avere una terza superficie portante ossia un aereo che normalmente ha la sua ala che è baricentrica rispetto alla fusoliera e poi i piani di coda che contrastano il momento di rotazione e l'intuizione di Morelli e Mazzoni che sono gli ideatori e i detentori di questo brevetto è stato quello di spostare verso il retro questa ala e sostanzialmente per bilanciare l'effetto di rotazione hanno messo una terza ala portante sul muso anteriore questo ha consentito di avere un'ala più piccola arretrarla quindi avere una cabina di fusoliera più capiente poi montando i motori spingenti introduceva varie innovazioni che per l'epoca in cui è stato ideato direi negli anni 70 se ricordo bene era veramente visionario e tutt'oggi credo che sia ineguagliato e quindi da giovane disegnatore ovviamente era una sfida un impegno ma comunque era stimolante sostanzialmente non trovo la parola giusta ma era stimolante poter lavorare su una macchina di questo tipo e se vogliamo ho avuto la fortuna di capitare in un momento giusto perché si passava dalla fase prototipale alla realizzazione di serie quindi in realtà abbiamo fatto un lavoro veramente di gavetta inizialmente insieme a me erano entrati altri ragazzi coetanei e facevamo la... sostanzialmente si rimetteva su CAD quindi a calcolatore i disegni che erano stati fatti a tecnigrafo quindi del progetto che partiva dalla carta bianca come si accennava prima e questo ha fatto sì che si prendesse dimestichezza con quelle che erano le metodologie, i materiali e anche la terminologia tecnica e a volte anche gergale perché poi Piaggio non dimentichiamo che è impiantata in una finale comunque dove quasi tutta la popolazione aveva un parente che lavorava all'interno dello stabilimento era sostanzialmente una grande famiglia e questo diciamo nel... per un buon primo anno primi due anni sostanzialmente si è fatto questo grosso lavoro di appunto ricopiatura dei disegni non era una semplice ricopiatura perché ovviamente andavano introdotte tutte le migliorie e non nego che è stato un momento difficile perché ovviamente era tutto nuovo e si introducevano un po' di errori per fortuna c'era un'ottima catena di controllo e di filtro nel senso che dopo l'emissione dei disegni da parte dell'ufficio tecnico c'erano una serie di uffici deputati al controllo e verifica quindi prima dell'approvazione ufficiale venivano sostanzialmente entravano in un giro per cui venivano ricorrette le cose che erano state introdotte in maniera errata una cosa che è diventata dopo diciamo sei mesi grossomodo le parti che venivano disegnate poi entravano in produzione e quindi si innescava la fase di feedback per cui dall'officina avevi il riscontro se il lavoro che avevi fatto era corretto o meno non nego che ho passato parecchio tempo con gli operai, con i montatori piuttosto che con chi realizzava le parti singole a discutere delle cose che non andavano e quindi a rimettere la posta questo è stato veramente formativo una fase che è durato parecchio tempo e ripeto mi occupavo della parte di strutture quindi parliamo di fusoliera nella zona se vogliamo più complicata del velivolo perché sta nel punto di forza dove c'è l'attacco dell'ala ci sono i carrelli e quindi dove si concentrano praticamente tutti gli sforzi e strutturalmente è più complicata da concepire e da disegnare questo adesso in linea di massima è stata la mia esperienza su questo velivolo devo dire che l'ambiente era un ambiente da una parte giovane perché insieme a me erano entrati anche altre 4-5 persone coetanei ma c'erano i miei colleghi strutturisti piuttosto che aerodinamici che avevano alle spalle parecchia esperienza ed erano disponibilissimi a trasferire le loro conoscenze per cui è un momento di crescita eccezionale quindi per un ragazzo giovane era veramente manna perché si poteva imparare a volontà e questo ho cercato di fare sono stato avido nel capire quello che sapevano fare i colleghi e cercavano di appunto insegnare devo dire da altra parte che anche la dirigenza era all'epoca abbastanza illuminata e oltre a guardare quello che era appunto il prodotto interno questo P180 si guardava anche intorno per cui c'era ovviamente c'erano svariate collaborazioni con con il resto del mondo dell'aeronautica e civile militare italiana e anche straniera per cui c'erano parecchie collaborazioni con aziende estere per cui Piaggio produceva per conto terzi motori su progetti Roll Royce piuttosto che l'Ecoming e anche parti di velivolo per conto terzi di fatti la mia esperienza dopo aver lavorato sul P180 è stata un'altra collaborazione che è nata negli anni 90 da una joint venture tra Piaggio all'epoca Air Italia è diventata poi a legna e la Dassault che stava progettando un nuovo velivolo della classe Falcon sempre parliamo di business jet come il 180 però a differenza del 180 con turboelica in quel caso parliamo di business jet con motore a reazione e questa collaborazione è sfociata sostanzialmente nell'acquisizione da parte di Piaggio della progettazione quindi la responsabilità di progettazione e costruzione di un troncone di fusoliera di questo Falcon 2000 e ci ha visto coinvolti sostanzialmente buona parte dell'ufficio tecnico è stato praticamente mandato in missione presso gli stabilimenti di Bordeaux Merignac di Dassault Aviation dove abbiamo trascorso sostanzialmente un sei mesi a impostare quello che era il lavoro che poi avremmo dovuto sviluppare e anche in questo caso il contatto con una realtà decisamente diversa rispetto a Piaggio vuoi per dimensione perché comunque parliamo di un'industria aeronautica che produce dai business jet appunto la serie Falcon che tutt'oggi è un fiore all'occhiello della Francia produce poi anche la parte militare con gli aerei all'epoca il Mirage per farne per fare un nome piuttosto che il Rafale che era un nuovo addestratore e anche in quel caso ripeto la la possibilità di essere a contatto con con una con una realtà nuova in questo caso poi anche all'estero e confrontarsi con con esperienze diverse ha fatto sì che l'esperienza maturata si sviluppasse ulteriormente ritornati dopo questa questa missione a finale abbiamo sviluppato questo progetto del Falcon 2000 tra l'altro con la collaborazione di numerosi consulenti che arrivavano da da svariati luoghi ricordo sicuramente italiani quindi dell'indotto locale ma dei francesi ovviamente che conoscevano bene le metodologie in uso ad assò piuttosto che degli americani quindi diciamo in una finale c'era comunque un ambiente sostanzialmente cosmopolita si potevano sentire lingue diverse e confrontarsi con esperienze diverse devo dire che quello che personalmente mi ha mi ha fruttato il poter crescere professionalmente all'interno di un'azienda che dove sostanzialmente c'erano gli albori appunto l'utilizzo dei calcolatori per la progettazione che ormai è pratica diffusa anche nelle piccole realtà ma difficilmente si poteva trovare una realtà di questo tipo in altre situazioni penso all'ambiente automotive che ultimamente sto bazzicando all'epoca non c'era più di tanto e questo strumento ricordiamo che era estremamente costoso tant'è che le postazioni CAD su cui si lavorava erano ridotte all'essenziale per cui si lavorava su turni quindi l'ufficio tecnico era organizzato su due turni mattina e pomeriggio e si alternava nell'utilizzo di queste postazioni CAD ripeto che avevano un costo non indifferente Piaggio era diventato una demo point per l'Italia per il suo sistema che è la software house produttrice di CATIA che è il sistema CAD che anche attualmente viene utilizzato dalla Piaggio Aero c'erano svariati personaggi che colleghi diciamo che portavano la loro esperienza sviluppata all'interno di Piaggio piuttosto che ricordo dalla Fiat di Vado Ligure nella sostanza sono due realtà se vogliamo simili per tecnologia perché se parliamo di una vettura di Formula 1 sostanzialmente l'aerodinamica è quella se vogliamo di un velivolo a rovescio nel senso che le ali sono montate a rovescio al posto di creare portanza bisogna creare di portanza ci sono altre implicazioni ovviamente per l'effetto suolo e quant'altro che nei velivoli per fortuna non ci sono ma in buona sostanza c'era c'era questo trasferimento tra l'industria aeronautica e la Formula 1 c'è sempre stata e quindi è stato uno sbocco abbastanza naturale io sono andato via dall'Arenaldo Piaggio nel 1995 a seguito soprattutto della crisi che si era innescata nel primo lustro degli anni 90 nel settore aeronautico italiano in generale quindi effettivamente benché ci fossero all'orizzonte dei progetti ma anche importanti c'era la rimotorizzazione del 180 che voleva passare a gett cosa poi mai avvenuta purtroppo c'è stato un po' un decadimento dell'attività e quando si è presentata l'opportunità di trasferirmi l'ho colta diciamo per continuare il mio percorso comunque all'epoca avevo 29 anni ecco quindi è stato sono qui a testimoniare appunto la mia esperienza per Piaggio e soprattutto per riconoscenza nei confronti di questa ditta che ha decretato la mia crescita professionale diciamo è stato abbastanza soft nel senso che come dicevo era uno stage a termine di un corso comunque di 1500 ore che avevamo fatto nell'anno 87 quindi sono arrivato intorno a settembre dell'87 nell'ufficio tecnico dove sono stato assegnato a quello che era il section leader di una di un troncone di fusoliera e lì ho iniziato ma credo dal primo giorno direttamente a disegnare su all'epoca si parlava di cadubi dimensionali quindi solo dalla messa in tavola e ricordo proprio il primo lavoro erano dei macchinati quindi delle parti lavorate di macchina montate su una su un troncone alla fine della fusoliera su un'ordinata e quella è stata proprio la mia prima attività fatta ancora comunque in questo periodo di stage quindi è stato un ingresso se vogliamo molto morbido eravamo abbastanza giovani comunque i miei colleghi c'era ricordo il mio responsabile poteva avere una ventina di anni più di me quindi era relativamente giovane anche lui e non abbiamo avuto particolari difficoltà ecco nel rapportarci sia a livello umano che professionale